Stiamo verificando piuttosto la presenza delle scuole se sono state tutte evacuate e pertanto stiamo accedendo anche agli istituti per controllarle definitivamente. I primi dati sono quelli che conosciamo tutti, 4.0 su Caraffa, 27 km di profondità, ovviamente anche gli altri enti, i vigili del fuoco stanno facendo alcuni controlli, qualche verifica per dare la tranquillità alla popolazione, per ora la maggior parte delle scuole sono evacuate.